Mi chiamo Franco De Liguoro e sono un ex appartenente all'aeronautica militare. E sono entrato in aeronautica nel 1963, frequentando l'Accademia con il corso Borea III. Da ragazzino ho cominciato a voler volare e ho portato avanti fortunatamente questa passione per molti anni. Dopo le scuole di volo, l'Accademia mi ha preso tre anni, ho preso il brevetto militare. Dopo le scuole di volo, sono approdato qui a Pisa. Non molto contento, perché pensavo a tutt'altra specialità. Pisa mi ha accolto molto bene. Ho incominciato il mio addestramento sul C119, che a quell'epoca era l'aeroplano da trasporto. Un'Iter era abbastanza normale, sono diventato come equipaggio. Una mattina, un lunedì mattina nel 1969, arrivando al gruppo, non ero in ordine di volo. Ho trovato un collega, il quale mi ha detto, senti, ho bisogno di un favore. Gli ho detto, certo, che cosa posso fare. Era a scapolo. Gli ho detto, guarda, dice, io ho mia moglie che dovrebbe fare, è incinta, non si sente bene oggi. Dovevo fare questa missione e se per cortesia ci puoi andare tu. La missione era un rischieramento per la pattuglia agrobatica, che dopo aver effettuato una dimostrazione di volo a Napoli, doveva rientrare a rivolto. E mi aveva chiesto questo collega, perché io sono napoletano di origine, e quindi ha detto, sai, se vuoi così puoi andare a Napoli. Io gli ho detto, non ci sono problemi. Nel frattempo la missione è stata un po' variata, perché c'era un aeroplano della 46esima, che era in avaria latina, e bisognava portargli un motore, l'elica, tutto l'equipaggiamento per la sostituzione. Ho detto, va bene, non ci sono problemi. Però si allungava il tempo del decollo. Abbiamo aspettato con l'equipaggio che al locale gruppo efficienza velivoli caricassero questo motore e quest'elica. A un certo punto ci hanno detto, è pronto, ci siamo regati. Noi eravamo al gruppo che era lontano da questo hangar del GEV, gruppo efficienza velivoli. Siamo andati a questo gruppo efficienza velivoli e abbiamo visto l'aereo che era stato caricato secondo quelle che erano, quelle che si chiamavano tabelle di volo, cioè erano delle tabelle di carico specifiche. Il nostro aeroplano era un aeroplano che era stato ceduto dall'India all'Italia. Quindi era un aeroplano un po' più vecchio che era stato più volte ridipinto, che significava che era un po' più pesante della normalità. E ci avevano insegnato che possibilmente doveva essere caricato il più possibile in avanti il carico nel compartimento di carico. Ho avuto una piccola discussione con l'ufficiale che si era occupato del carico e gli ho chiesto di spostare il carico un po' più avanti. Non è stato contento, però in effetti questa faccenda l'hanno fatta. Finalmente intorno, mi ricordo bene, intorno alle 11, tutto era a posto e siamo decollati da Pisa per andare a Latina. Allora, giornata tranquilla, volo tranquillissimo. Abbiamo fatto un volo in quelle che si chiamano condizioni strumentali, cioè un volo in arrovia. Quando siamo arrivati su pratica di mare, la giornata era molto bella, c'era una procedura che si diceva cancellazione perché Latina aveva una procedura strumentale non dico complessa, però faceva perdere un pochino di tempo per recuperare qualche minuto. Abbiamo cancellato la procedura strumentale e abbiamo proseguito il volo a vista. Infatti siamo arrivati dopo qualche minuto in vista dell'aeroporto di Latina. Ci preparavamo a un normale atterraggio e a quel punto il motore di destra ha dato dei problemi. Fatti determinati controlli, abbiamo spento il motore, abbiamo messo le leca bandiere, è andato tutto perfettamente bene. Ci siamo inseriti per il finale, avevamo la pista in vista, non c'era assolutamente nessun problema. Mi sono reso conto, ci siamo resi conto, sia col secondo pilota che col motorista, che la radio di discesa era un pochino più veloce di quello che ci saremmo aspettati. Però, ripeto, avevamo la pista avanti e non c'era nessun problema. In realtà, a un certo punto, mi sono reso conto che non ce la facevamo. e tra le altre cose, vedevo che avevo davanti agli occhi degli alberi. A quel punto, ho detto, sia al secondo pilota che al motorista, diamo tutto motore, abbiamo dato tutto il motore che avanzava, addirittura al motorista c'era una procedura particolare, si diceva, dato l'acqua al motore, dava un pochino più di potenza al motore. Nonostante questo, visto che non ci arriviamo, gli ho detto, io mi butto nel campo. E quindi ho deciso, c'era un campo abbastanza grosso, ho deciso di atterrare in questo campo, anche se ritenevo che sia io che noi dell'equipaggio davanti saremmo finiti in questi alberi. In realtà l'ultima cosa che io ricordo prima dell'atterraggio è stata che quando ho toccato la coda, eravamo senza carrello, si è girato su un'ala. E io mi ricordo che mi sono visto andare verso l'alto. Mi sono risvegliato, risvegliato nel senso che ho ripreso coscienza che rotolavo verso gli alberi, anche abbastanza vicino. E infatti il secondo pilota era col suo seggiolino, io ero senza seggiolino, lui era col suo seggiolino vicino agli alberi. Mi sono tirato su, mi sentivo abbastanza in piedi e sono andato verso l'aeroplano. Ho visto una vecchina, vecchina, a me è sembrata una vecchina in quel momento che si precipitava verso l'aeroplano e l'ho trattata anche male. gli ho detto via, via, via che puoi incendiarsi. E lei ha detto io sono una madre, ci potrebbe essere mio figlio lì dentro. Mi emoziono perché quella donna mi ha emozionato. Diciamo che poi abbiamo tirato fuori due, tre persone, adesso non ricordo cosa. C'era uno stabilimento della Goodyear vicino. Sono arrivati in parecchi, io so che mi hanno caricato, ricordo, una Sim Camille con altre due persone. Uno, credo che fosse Rossi, che era il radiotelegrafista di bordo. Ci hanno caricato in questa macchina e ci hanno portato in ospedale dove ci hanno soccorso. un particolare non mi è piaciuto che la persona che ci ha portato con questa Sim aveva la radio accesa. La radio accesa ha subito parlato di quest'aeroplano che era precipitato a Latina ed erano tutti morti. E io gli ho detto mi dispiace, non siamo, almeno alcuni di noi sono ancora vivi. sono rimasto alcuni giorni in ospedale, ho saputo che un paio di colleghi non erano messi molto bene, però degli undici che eravamo a bordo perché c'era anche un team che avrebbe provveduto al cambio del motore, diciamo che solo queste due persone erano messe un po' male, però in realtà gli altri eravamo in condizioni diciamo tranquille per quel momento. Che cosa posso aggiungere? Mi hanno detto di essere stato fortunato e ritengo sì di essere stato fortunato. In seguito nella mia carriera militare anche al di fuori mi sono reso conto che può essere anche non solo fortuna, può essere anche una certa voglia di fare le cose in un certo modo, quindi forse anche l'aver deciso a non proseguire il volo. noi siamo nel campo era un chilometro e mezzo dalla testata pista qualcuno mi ha detto ce l'avresti fatta io non credo che ce l'avremmo fatta. Sono stato sotto inchiesta dopo questo incidente e hanno cercato in tutti i modi per molti motivi ovviamente di attribuirmi la responsabilità non avrei avuto problemi a prendermi la colpa anche ritenendo di aver fatto le cose abbastanza bene in realtà poi mi hanno diciamo scagionato non c'è stata un'inchiesta della procura almeno non mi risulta mi risulta che c'è stata solo un'inchiesta militare dopo circa un anno mi hanno detto che mi avevano scagionato un paio d'anni dopo dei colleghi dei superiori volevano darmi una medaglia io sinceramente non l'ho voluta non l'ho voluta perché ho due rimorsi riguardo a quell'incidente uno ovviamente delle persone che hanno subito dei danni che erano a bordo con me di cui sentivo e sento la responsabilità una delle persone è Gino Stocco con il quale siamo rimasti amici anche con gli altri ovviamente con Gino un po' di più perché per tanti motivi ci siamo frequentati un po' di più l'altro rimorso è stato perché un anno dopo circa un anno dopo c'è stato un altro incidente con il C119 a rivolto e purtroppo ci sono stati molti morti perché questo rimorso io ritenevo che probabilmente il nostro aeroplano fosse stato più carico di quello che era consentito non avevamo modo a quel tempo di controllare esattamente non sto facendo delle critiche sto esponendo un fatto per cui spesso i pesi forse non corrispondevano a quelli che ci venivano propinati in varie occasioni sono stati fatti dei riscontri di pesi non congrui se io forse avessi insistito nel combattere la mia battaglia contro l'istituzione tra virgolette più che contro l'istituzione contro le abitudini che si avevano forse l'incidente di rivolto non ci sarebbe stato lo dico perché dopo l'incidente di rivolto fu preso un provvedimento per il quale il carico massimo degli aeroplani venne dividito circa una tonnellata se fosse stato lo stesso dopo il mio incidente probabilmente quello di rivolto non sarebbe finito in quel modo dopo questo incidente sono stato in pratica tre mesi in convalescenza poi sono rientrato all'aerobrigato ho proseguito il mio normale ITER dal 119 sono stato uno dei primi equipaggi che ha fatto la transizione su C-130 perché il nostro gruppo fu scelto per fare la transizione su C-130 sono diventato capo equipaggio su C-130 e poi come tutti quelli che avevano frequentato l'accademia ho incominciato a pilotare scrivanie invece che aeroplani scrivanie molto interessanti per quello che mi sono stato fortunato ho avuto delle scrivanie molto interessanti per varie vicende prevedevo di terminare la mia carriera da tenente colonnello invece mi sono trovato per molti motivi a diventare colonnello e mi hanno anche dato il comando di uno stormo ad un certo punto io sono stato inviato a cambiare linea di volo e sono stato assegnato alla linea di volo elicotteri non ero contento ai miei tempi gli elicotteri erano serie Z il C119 era serie B i reattori erano serie A gli elicotteri erano serie Z l'aeronautica aveva appena acquisito gli elicotteri HH3F per il soccorso e scoprirono che non ci sarebbero stati comandanti di gruppo provenienti dall'accademia e allora hanno preso un po' di piloti dalle varie linee e le hanno spedite agli elicotteri perché poi avrebbero dovuto fare il comando di gruppo io sono stato tra quelli ho proseguito il mio addestramento sull'elicottero devo dire che l'iniziale perplessità è passata presto perché l'elicottero è una macchina completamente diversa dall'aeroplano è un'esperienza io sono curioso amo fare esperienze diverse con l'elicottero ho fatto un'esperienza diversa che tutto sommato mi ha soddisfatto ho fatto anche un'esperienza particolare perché sono stato assegnato avendo diciamo il brevetto d'aeroplano e di elicottero sono stato assegnato il 31esimo stormo che era quello stormo che a Ciampino faceva il trasporto delle personalità trasporto VIP e così avevo la possibilità di volare sia sull'aeroplano che sull'elicottero al 33esimo stormo c'era un gruppo di aeroplani e un gruppo di elicotteri io ho comandato il gruppo di elicotteri ma ogni tanto volava anche con l'aeroplano che era in dotazione all'altro gruppo ho fatto delle esperienze molto buone perché ho avuto la possibilità di stringere la mano anche a delle personalità particolari ne cito una sola ne cito due cito quello che era al tempo Giovanni Paolo II che oggi è santo col quale ho fatto diversi voli perché ho fatto diversi voli da comandante di gruppo potevo volare tranquillamente il sabato e la domenica e il Papa ogni tanto andava in giro il sabato e la domenica e quindi approfittavo del mio grado per portarlo in giro e passare con la gioia di mia moglie le domeniche fuori Giovanni Paolo II era una persona molto particolare ho avuto delle esperienze con lui molto molto piacevoli mi permetto di sottolineare che non sono un credente ma Giovanni Paolo II era una persona molto molto particolare molto piacevole ne cito un'altra ancora un episodio che non racconterò perché Reossain di Giordania ho avuto l'onore di portarli in giro ho portato in giro anche un paio di regini quattro presidenti della Repubblica diversi senatori quattro presidenti della Repubblica di cui due francesi un paio di regine qualche prece è stato molto interessante qualche senatore qualche deputato anche qualcuno poco educato tra i deputati è stato molto interessante poi ho ripreso la scrivania e sono stato all'estero dove ho fatto anche lì un'esperienza interessante poi come ripeto da colonnello mi hanno affidato lo stormo del soccorso aereo ho passato un anno veramente molto molto piacevole col soccorso il soccorso forse finalmente negli ultimi anni ha avuto il risalto che merita gente molto dedicata sempre pronta ad andare in giro e portare in qualsiasi condizione le persone in salvo in moltissime occasioni e oggi questo viene riconosciuto al termine del periodo del soccorso per motivi personali ho dovuto scegliere tra l'aeronautica e la famiglia ho scelto la famiglia e quindi a 44 anni ho chiesto di andare in congelio 44 anni tre figli piccoli non è stato semplice però la mia è stata la decisione chiamiamola ragionata per mantenere il brevetto valido i primi due anni ho fatto il pilota gettonaro mi chiamavano a richiesta quando avevo bisogno della mia prestazione ho fatto un periodo del trasporto di passeggeri per l'isola d'Elba da Pisa e da Firenze e da Milano e poi un collega un amico collega mi ha detto se voleva andare a volare per l'Alissi l'Alissi era una società piccolissima che volava a Siena ed era diciamo di proprietà dei nannini mi sono trovato a portare in giro anche Alessandro Nannini che a quel tempo correva in Formula 1 io sono l'unico sport di cui sono appassionato le macchine e la corsa e quindi trovava un po' in quello il mio ambiente un giorno Alessandro Nannini mi ha detto ma sai cosa mi piacerebbe mi piacerebbe come alcuni colleghi piloti avere un elicottero col quale poter arrivare sui campi gara arrivare sui campi gara spesso era complicato perché c'era molto traffico e io gli ho detto lasci perdere perché l'elicottero è una macchina molto particolare molto pericolosa mi ha detto lei che ne sa io ho detto beh io ho una piccola esperienza di elicottero io essenzialmente sono un pilota aeroplano ho un po' più di 4300 ore di volo d'aeroplano e ho solo 850 ore di elicottero quindi l'elicottero per me era una seconda macchina anche come attività operativa di elicottero ne ho fatte relativamente poca qualche settimana dopo Alessandro Nannini mi ha detto ho deciso di comprare l'elicottero e lei volerà per me non ho potuto fare altro che accettare una soluzione del genere per me andava benissimo e ho acquistato un elicottero all'aerospaziale un elicottero che era già stato usato diciamo di seconda mano sono andato a Marsiglia a fare l'addestramento e la transizione su questo elicottero era un ecurel e poi sono andato a ritirarlo a Trento dove c'era diciamo una succursale dell'aerospaziale ho fatto una specie di collaudo di questo elicottero un volo con un istruttore che mi pare fosse un ex carabiniere e poi mi è stato affidato questo elicottero e se non sbaglio non mi ricordo se era un sabato o una domenica adesso non ricordo bene no no chiedo scusa no mi sto confondendo sono rientrato un pomeriggio da Trento per andare a Siena ovviamente Siena ho ritardato perché la consegna dell'elicottero mi è stata data un po' in ritardo e quindi abitando a Pisa con l'elicottero mi sono diretto verso Pisa ma essendo un aeroporto militare essenzialmente non mi hanno concesso di atterrare e quindi sono andato ad atterrare a Firenze sono rientrato a casa a Pisa e il giorno dopo sono andato a ritirare questo elicottero e da Firenze l'ho riportato a Siena quando siamo arrivati a Siena ci hanno detto che l'elicottero non avrebbe potuto più volare perché non aveva le assicurazioni a posto Alessandro Nandini mi ha detto ma non è vero l'assicurazione e la documentazione è a posto non ci sono problemi io gli ho detto senta per quello che mi riguarda io non posso volare perché lui ha fatto delle telefonate mi è arrivata una comunicazione dal direttore dell'aeroporto di Firenze che potevamo trasportare potevo decollare da Siena andare a Firenze dove avremmo discusso di questa faccenda infatti siamo rientrati da Siena siamo rientrati a Firenze aveva a bordo sia Nannini sia due passeggeri che lui aveva voluto portare per fargli fare un volo su questo elicottero a Firenze c'è stata discussione alla direzione del volo dove hanno riscontrato che invece le assicurazioni erano a posto e quindi c'è stato detto che potevamo rientrare a Siena ho decollato da Firenze diretto a Siena in volo Nannini mi ha detto che voleva fare ovviamente la transizione voleva imparare a pilotare io gli ho detto che non avrei potuto fare il ristruttore poiché non ero ristruttore però come succedeva gli ho detto guardi se vuole quantomeno provare gli ho detto si può fare così e così era una questione che poteva accadere avendo io le mani sui comandi l'elicottero a doppio comando quindi lui ha messo le mani sui comandi e ha fatto un brevissimo tratto penso un paio di minuti per assaggiare quali fossero le reazioni dell'elicottero poi ho ripreso i comandi quando siamo arrivati in vista di Siena mi ha detto guardi da queste parti ci dovrebbe essere la villa di mio padre dove io vorrei fare un campo d'atterraggio gli ho detto va bene era quasi ora di pranzo non ero contento di fare una digressione per vedere questa posta però sinceramente mi aveva fatto una richiesta con molta cortesia Alessandro era molto molto cortese molto educato quindi abbiamo fatto una digressione su questa villa lui mi ha detto guardi lì c'è il campo da tennis possiamo atterrare lì possiamo far lì gli atterraggi e io gli ho detto mi sembra che sia dall'alto gli ho detto mi sembra che sia in terra rossa sì sì ho detto guardi allora Cancelli dell'elicottero sorrevo molta terra assolutamente non è una cosa fatta bene poi c'è un altro posto abbiamo fatto un giro abbiamo fatto un giro ho individuato un diciamo uno spiazzo un po' più sotto la collina dove poteva essere approntata una specie di piazzola l'atterraggio che avesse tutte le caratteristiche quindi come una procedura abbastanza normale ho fatto un paio di giri mi sono accertato che non ci fossero ostacoli e ho fatto un avvicinamento giusto per vedere qual era la direzione migliore e poter dare poi delle indicazioni ho fatto questo avvicinamento ho fermato l'avvicinamento in hovering a una quota sinceramente intorno penso a un centinaio di piedi non riesco a essere più preciso mi sono fermato mi ho detto sì mi sembra che qui vada bene e quindi ho deciso di ridecollare e andare via il momento in cui ho deciso di ridecollare ho sentito che si bloccavano i comandi avevo cominciato una rotazione verso destra perché c'erano un po' più bassi ma davanti a noi c'erano degli alberi nel mentre facevo questa ridurazione mi sono bloccati i comandi non è semplice reagire ho deciso di metterlo per terra sapendo che sarebbe stato difficile in effetti l'elicottero si è abbattuto diciamo quasi per terra perché sembra dall'inchiesta che abbia picchiato prima col pattino sinistro quindi diciamo che è rimbalzato e poi ha toccato terra con le pale io mi sono risvegliato disteso per terra con già i soccorsi dell'ambulanza mi hanno rianimato mi hanno recuperato mi sono ritrovato in ospedale in sala la rianimazione ho dato delle indicazioni per raggiungere la mia famiglia ho fatto chiamare anche diciamo un cugino di mia moglie che era medico a Grosseto e mi ricordo che a un certo punto era accanto a me so che ho perso conoscenza due volte perso conoscenza mi hanno rianimato due volte sono stato una settimana in rianimazione poi mi sono ripreso e diciamo dopo quattro mesi sono rientrato a casa no mi sono rimesso in piedi sono rientrato a casa dopo un mesetto anche lì sono stato sotto inchiesta sia una inchiesta civile dalla magistratura sia una inchiesta militare anche lì mi hanno detto che sono stato fortunato scusate se lo ripeto essere fortunati due volte è facile e ritengo di essere stato fortunato non lo cancello però avendo anche fatto parte di commissioni inchiesta prima di questo secondo episodio è facile ritengo dare la colpa ai piloti quando sono morti è un po' meno facile sapere quello che accade veramente trovarsi in condizioni di emergenza estreme comporta dei ragionamenti estremamente veloci e non si sa mai se la decisione presa è quella giusta o quella sbagliata io ritengo non so se la mia decisione è stata giusta o è stata sbagliata so che la mia decisione non ha comportato vittime e per me vittime almeno perdita di vita e per me questo è stato molto importante Annini ha avuto dei grossi danni ovviamente anche lì ho il rimorso perché ha dovuto smettere la carriera di corridore automobilista ripeto il rimorso non perché ritenessi di aver colpa sicuramente però la responsabilità era mia perché ero io ai comandi dell'elicottero non ho detto che l'inchiesta civile l'inchiesta della magistratura dopo diverse vicende mi ha scagionato da qualsiasi responsabilità al processo sia il primo processo sia il processo d'appello il mio avvocato un avvocato romano aveva anche un tecnico un un perito mio di parte che era un ingegnere dell'Augusta che mi era stato consigliato da un amico che era collaudatore ex marina che era collaudatore dell'Augusta il quale ha chiarito quelle che potevano essere le cause e i motivi posso anche dirlo probabilmente c'era stata una disconnessione nel circuito idraulico probabilmente diciamo l'inchiesta mi sorprese perché il pubblico ministerio nel processo d'appello praticamente fece una una ringa a mia discolpa la cosa mi sorprese molto un'altra delle fortune che ho avuto era che uno dei giudici sempre del processo di appello era un pilota pilota d'aeroclub il quale però al quale fu molto chiaro abbastanza quello che era successo e quindi fu scagionato anche in questo secondo caso l'altra inchiesta fu della c'era un'associazione gente dell'aria che era dei piloti civili alla quale ho riscritto e anche lì più che altro in seguito all'inchiesta giudiziaria anche lì sono stato scagionato questo non mi ha tolto i due rimorsi di cui ho parlato prima e che porta ancora con me ho continuato a volare anche dopo questo secondo incidente sì non ho tenuto il brevetto di elicottero perché era troppo dispendioso ho mantenuto il brevetto di aeroplano fino a quasi 60 anni ho cercato di volare a chiare ho fatto un'altra esperienza con l'elicottero una quindicina di anni dopo avevo un figlio a Rimini e avevo un amico a Lugo di Romagna all'aeroclete alla scuola di volo di elicotteri gli ho detto senti se ti pago mi fai fare un volo mi ha detto certo da passeggero sì ho detto da passeggero e quindi dopo 15 anni ho volato con l'elicottero da passeggero confesso di aver cercato di pilotarlo anche e confesso di aver ripreso abbastanza il senso del volo con l'elicottero anche dopo 15 anni in realtà ho fatto un'altra esperienza ma non la posso raccontare grazie 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 grazie